Per 2 a 2 contro la Stella d'Oriente, che gara è stata? È stata una gara molto combattuta, diciamo che loro la mettono sempre sul piano della grinta e infatti all'inizio sono passati in vantaggio, hanno chiuso il primo tempo loro per 2 a 0 e al secondo tempo poi il mister ci ha spronati e siamo riusciti a fare due gol e poi peccato perché c'è stato forse un rigore che non ci hanno dato e niente, una partita è finita in pareggio Qual è il tuo bilancio stagionale della squadra? Sei soddisfatto o pensi che potevate fare qualcosina in più? Certo, potevamo fare qualche cosa in più perché ci sono state alcune partite dove magari non ci siamo concentrati molto e magari come la prima contro il Cei che all'ultimo ci siamo fatti e abbiamo perso presente all'ultimo dove invece noi ci meritavamo di vincere mentre ci sono state diverse occasioni che abbiamo sprecato A livello personale invece sei soddisfatto e anche e soprattutto quali sono i tuoi obiettivi per la stagione visto che comunque sono attaccante quindi immagino vorrei raggiungere un certo numero di gol fatti Sì, il mio obiettivo comunque è sempre di dare un contributo alla squadra e cercare sempre di giocare al meglio poi anche se sono attaccante invece di segnare faccio assist e segno altri miei compagni sono lo stesso felice l'importante è che vinciamo le partite poi io cerco sempre di dare il massimo poi quello che è, come vava grazie a tutti